Questa sera abbiamo una relatrice, la professoressa Serena Luzzi, che è professore associato di storia moderna presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento. Tra i suoi interessi di ricerca diciamo che abbiamo la storia sociale e culturale del Settecento, la storia delle minoranze, la storia delle migrazioni in antico regime, le scritture carcerarie, poi Gesuiti e la guerra giusta. Per quanto attiene alle pubblicazioni mi limiterò a citarne due. Una, Stranieri in città, Presenza tedesca e Società urbana a Trento, secoli XV-XVIII, pubblicata dal Mulino nel 2003. E la seconda invece, che è strettamente collegata agli argomenti che sono stati trattati nella prima conferenza e in quella di questa sera, l'edizione critica dell'opera principale di Carlo Antonio Pilati, il cui titolo è Di una riforma d'Italia, ossia dei mezzi di riformare i più cattivi costumi e le più perniciose leggi d'Italia, pubblicata nel 1767 in forma anonima, che avrà poi una nuova edizione nel 1770. Questa edizione critica è stata pubblicata dalle edizioni di storia e letteratura nel 2018, quindi recentissima e deve essere costata un notevole impegno e fatica alla curatrice, appunto la professoressa Luzzi. Qualcuno di voi forse ricorda il video che è stato pubblicato il 15 giugno 2020 e questo video, che naturalmente rimane sempre nel sito, quindi può essere rivisto da chi lo vide allora, ecco qui abbiamo una bella lezione della professoressa Luzzi proprio su quest'opera, su questa opera principale dell'illuminista Carlo Antonio Pilati. Ecco, quindi rinvio a quella perché è veramente una lezione molto bella, sia dal punto di vista della formale che sostanziale, ovviamente. Adesso, per non perdere tempo e non rubarle tempo, le do la parola e noi ascoltiamo volentieri la conferenza di questa sera, insomma, dedicata appunto alla questione della censura di Stato. In rapporto agli scrittori a processo, il titolo Maria Teresa Carlo Antonio Pilati e la censura di Stato, anche nella lezione precedente aveva parlato di censura, ma non voglio anticipare nulla, non voglio rubare spazio ulteriore. Prego, prego, Serena. Grazie Claudio, buonasera a voi tutti, grazie Claudio per l'invito, oltre che per questa generosa presentazione, ringrazio il pubblico che sta seguendo questa conferenza a distanza, ahimè. Sì, il titolo di questo intervento, Claudio lo ha ricordato, è Maria Teresa Carlo Antonio Pilati e la censura di Stato e i protagonisti sono prima di tutto in realtà due, la censura per l'appunto, in particolare la censura di Stato da una parte e dall'altra le regole non scritte, per così dire, della comunicazione politica. Pilati è il terzo tra gli attori, l'attore che subisce, subisce un sistema, un sistema di controllo censorio che come vedremo non sembra comprendere fino in fondo. Allora il primo attore su cui focalizzare l'attenzione è la censura di Stato nel corso del Settecento. Quando parliamo di censura in genere pensiamo alla censura ecclesiastica, agli indici dei libri proibiti astillati da Roma, pensiamo all'Inquisizione, no? E così via, eccetera. Ecco, il ruolo della censura di Stato invece viene tendenzialmente, anche dalla storiografia, tendenzialmente sottovalutato o addirittura ignorato. Al contrario, se consideriamo il Settecento, gli studi ci dicono, ci segnalano che l'azione censoria e il controllo della stampa da parte degli apparati statali settecenteschi sono più efficaci rispetto alla censura ecclesiastica. Questa è una realtà che vediamo in tutti gli Stati europei, non solo lungo la penisola. È un processo peraltro di cui si discute non solo nel chiuso dei salotti, ma anche attraverso opere date alla stampa, no? A chi spetta la proibizione dei libri? Questo è uno dei tanti quesiti, no? Di cui si discute. Beh, la risposta per molti è pacifica, non alla Chiesa, ma al governo secolare, allo Stato. Gli apparati di controllo ecclesiastici in ogni caso si mostrano lenti, lenti rispetto ai tempi molto veloci dell'editoria europea dell'epoca che inonda il mercato librario di titoli anticuriali, antipapali, libertini, titoli insomma ritenuti scandalosi, pericolosi, immorali, a danno della stabilità della società. La circolazione libraria peraltro nel corso del settecento è davvero massiccia e su questo versante la Chiesa è in difficoltà. Troviamo opere messe all'indice dopo due, tre anni o addirittura sette, otto, dieci, dodici anni dopo la pubblicazione, anche se poi, una volta intercettati, restano all'indice per decenni, per non dire per secoli. Ecco, dicevo, gli apparati censori, quindi ecclesiastici, sono sì lenti, però non smettono di controllare, di proibire e di censurare. Ora, in questo contesto parliamo della censura cattolica, parliamo quindi della Chiesa cattolica, però ecco, tutte le Chiese fanno ricorso alla censura. Ecco, quindi perfino l'Olanda, i Paesi Bassi, che secondo un luogo comune sarebbero i Paesi della Libertà, dalla censura, eccetera, eccetera. Ecco, perfino ad Amsterdam si allestiscono roghi di libri come vengono allestiti a Roma e come vengono allestiti in realtà ovunque. In ogni caso, bisogna anche aggiungere che non c'è condanna ecclesiastica che possa arrestare, fermare la circolazione o la lettura di un Beccaria, di un Montesquieu, di un Volterra, eccetera, eccetera, di un Pilati. Concentriamoci adesso sull'attività censoria a Vienna, dove le circostanze non sono diverse. Alla Corte di Vienna di censura di Stato si discute ormai da vent'anni e anche più. Il primo decreto di Maria Teresa è emanato otto mesi dopo la sua elezione nel giugno del 1741, quindi è una priorità, è un problema. Il 1741 è del primo di una serie ininterrotta di decreti che dopo 40 anni di governo ammontano a più di 100 ordinanze e sono ordinanze sempre più severe. Per esempio, una patente del 46, autori, stampatori, librai, distributori dei volumi che sono stati censurati o sono censurabili per i contenuti, sono tutti ugualmente REI. REI cosa vuol dire? Che si intende colpire il patrimonio, ma non solo l'onore ed eventualmente anche la vita. Cito, gut, leip, ea und blut. Quindi si prevede, si combina perfino la pena, la pena capitale. E nemmeno il clero viene risparmiato da questa volontà di controllo viennese, un editto teresiano del 65, intima agli ecclesiastici di non opporsi alle visite a domicilio dei censori statali, di non opporsi quindi alle perquisizioni degli ufficiali statali, il clero. Il fatto è che ormai la censura è considerata in tutto e per tutto come un ramo della gestione amministrativa statale. Cito, un ramo della civile polizia ed economia pubblica dello Stato, così la definiva il cancelliere Kaunitz, braccio destro, come sappiamo di Maria Teresa. Nel quadro di questo tipo di programma di polizia anche Vienna allestisce i suoi cataloghi dei libri proibiti, proibiti quindi non dalla Chiesa di Roma ma dallo Stato. Il primo indice di Stato austriaco risale al 1754. Da allora escono con frequenza abbastanza regolare aggiornati questi indici fino al 1776. È interessante notare come si trovino censurati libri a Vienna che invece Roma, la Chiesa di Roma, ammette e viceversa. Un'analisi quantitativa condotta su questi cataloghi ha contato che i titoli condannati appunto da Vienna furono grosso modo 4200 nell'arco di un ventennio, non sono pochissimi rispetto alle stime diciamo dell'epoca. Un altro dato, la virulenza censoria si fa registrare in particolare nel primo decennio fino alla fine cioè degli anni 60. Naturalmente questi decreti censori investono tutta la monarchia, tutti i territori della monarchia, quindi anche il Tirolo ai confini d'Italia, no? Il circolo an den belchen confinen, quindi il roveretto, il primiero, la bassa Val Sugana, il tesino. Il principato vescovile di Trento, beh, in teoria la censura di Stato viennese non aveva giurisdizione su questi territori. Dico in teoria perché come vedremo le ingerenze e le pressioni viennesi sono forti, possiamo, a danno naturalmente della competenza ma della sovranità del principe vescovo. Ecco, è in questo cornice, in questo contesto che si inserisce suo malgrado Carlo Antonio Pilati. L'esperienza di Pilati con la censura viennese è un caso di studio piuttosto interessante perché ci consente di vedere all'opera gli apparati di controllo passo dopo passo, rapporto dopo rapporto, ma anche le tensioni che rappongono il principe vescovo di Trento al potere ingombrante asburgico, ma anche la posizione dello scrittore e i limiti a cui si trova, con cui si trova a dover fare i conti, no? Nell'espressione, nel pensiero, nello stile. Mi riferisco al processo subito da Carlo Antonio Pilati nel 68 per aver diffuso nei territori d'Austria, quindi anche nel Tirolo italiano, appunto la sua riforma d'Italia. L'opera era uscita nel 67, l'anno precedente, quindi anonima. Ecco, un libro anonimo era di per sé sospetto, a priori. Come sappiamo, il libro di Pilati è un'opera di proposte e di denuncia, no? Affronta il tema del rapporto tra Stato e Chiesa, si espone contro la corte pontificia, contro frati e moniaci, sollecita una tolleranza religiosa molto, molto generosa, molto ampia, inedita, estesa all'Islam, all'ebraismo, chiede una riforma del sistema educativo, della giustizia e così via, tutti i temi di estrema attualità all'epoca. Ecco, appena la stampa del volume della riforma d'Italia è completata, si procede con la promozione e la distribuzione a livello internazionale, ma anche a Trento e anche a Rovereto. Pilati non si nasconde, si sente al sicuro, smista personalmente il libro di cui va fiero. La riforma d'Italia allora inizia a circolare anche nel territorio del Principato Vescovile, varca la vicina frontiera con il Tirolo italiano, raggiunge quindi i sudditi di Maria Teresa e cattura l'attenzione dei funzionari cesarei. Il libro di Pilati viene infatti intercettato a Rovereto. Da Rovereto il vice capitano Cesareo segnala prontamente ai suoi superiori ad Innsbruck, come a Vienna, che nel suo territorio circola un libro anonimo, cito, dai contenuti anticattolici e faziosi. Il carteggio è in tedesco. Quindi cosa succede? In ottemperanza alle istruzioni viennesi il capitano informa non come avrebbe dovuto il vescovo, il vescovo locale, ma la corte di Innsbruck. Il caso vuole che il vice capitano allora di Rovereto fosse un cugino di Pilati, un parente, Giannicolo Cristani, però naturalmente ogni risvolto personale è bandito dall'azione dei funzionari di sua maestà. Siamo al 7 giugno 1767. Prende avvio ora in poi una fitta corrispondenza tra il vice capitano di Rovereto e i suoi superiori negli uffici di Innsbruck e di Vienna. Il carteggio si trova conservato negli archivi di Innsbruck e ci rivela in modo trasparente, direi, come operano appunto gli apparati di censura di Stato teresiana. Una copia del libro viene richiesta di Innsbruck, un'altra viene richiesta a Vienna. Il verdetto è pronunciato molto rapidamente. La riforma d'Italia è un'opera, cito, scellerata, scandalosa, anticattolica. Uno stösliche spuf vida di cattolische religion. Quindi se ne prescrive la distruzione, rogo, secondo una pratica, peraltro, consueta non solo nel contesto della censura teresiana, ma ovunque. Ecco, a questa prima sentenza ne arriva la seconda, definitiva, formale, quella della commissione censoria che decreta il formale inserimento dell'opera pilattiana nel catalogo dei libri proibiti, nel catalogo di Stato di Vienna, 20 febbraio del 68. Vale la pena sottolineare che i censori sono nominati dalla Corte e non dal Vescovo, non dalle referenti ecclesiastici. domanda, chi ha voluto la condanna della riforma d'Italia a Vienna? Anche perché alcuni contenuti erano compatibili con la politica teresiana, no? Purtroppo non lo sappiamo. Non si può escludere che la paternità della condanna sia di Maria Teresa stessa, come accade in alcuni casi, o forse va attribuita all'arcivescovo di Vienna, il trentino Cristoforo Migazzi. E' importante osservare che il libro non è ancora stato intercettato dalla censura ecclesiastica, né a Trento né altrove, a Venezia per esempio, anche lì il libro viene bloccato, no? La condanna ecclesiastica è più lenta, dicevamo, e si muove spesso, per il Settecento almeno, su indicazione della censura di Stato e questo accade anche per la riforma d'Italia. Il bando ecclesiastico contro la riforma d'Italia viene pronunciato solo a seguito dell'iniziativa tirolese, quindi a Trento, poi a Feltre e poi a Roma ed è a questo punto che la riforma d'Italia viene effettivamente condannata anche all'indice dei libri proibiti di Roma. E' in buona compagnia, per la verità, nella seduta che condanna il titolo pilatiano, 29 luglio del 67, si censurano altri nove famosi libri, tra i quali le opere di Rousseau. Nel frattempo la riforma d'Italia circola lungo la penisola, viene letta a Parigi, oltremodo apprezzata da Voltaire che ne parla per mesi nelle sue lettere e ad Amsterdam come a Parigi si lavora per una traduzione in lingua francese. Le traduzioni saranno due e usciranno da lì a poco. Ma torniamo a Rovereto, al circolo ai confini d'Italia. Il libro viene intercettato e a questo punto la macchina censoria asburgica si mette immediatamente in moto. Le lettere inviate da Innspuc a Rovereto ordinano non solo di bloccare la diffusione del libro incriminato, ma di individuare l'autore. Questa diventa una priorità. Bisogna punire l'autore, trovarlo, scovarlo. Bisogna trovare il tipografo, i responsabili della circolazione. E allora cosa si fa? Si prosegue con un'indagine, per così dire, a tappeto in tutti i centri del circolo ai confini d'Italia. Si fanno visite presso privati e presso le librerie sulla base di misure attive già dal 45, da parecchi anni. C'è una patente del 45 appunto con cui si afferma il diritto alla perquisizione nelle case, sulle persone, nei bagagli. Pilati non sa niente perché questo tipo di indagini vengono fatte, sono fatte nella segretezza. L'indagine a questo punto si estende alla città di Trento dove, l'abbiamo detto, il controllo dei libri dovrebbe essere affare gestito interamente dal tribunale ecclesiastico. Vescovile, così non è. A Trento le indagini vengono invece gestite dal capitano della città, rappresentante della Casa d'Austria da molti secoli, come sappiamo una presenza parte delle istituzioni tridentine. All'epoca il capitano è Gasparo Migazzi, che ordina anche la perquisizione della posta delle lettere quindi di Pilati o a lui destinato. Ma nei carteggi di Pilati non c'è verso di trovare una dichiarata definita la paternità dell'opera. Sono altri carteggi che consentono di avere la prova approvata. Bene, però i sospetti si accumulano, insomma c'è chissà, Migazzi il capitano è molto abile nel raccogliere, nel raccogliere gli indizi e quindi una pesante serie di indizi si accumula. Migazzi ne ricava una relazione che viene mandata e a Dillisbruck e a Tiro e a Vienna. Siamo a metà dicembre, 15 dicembre del 67. Vienna a questo punto chiede meglio, impone al principe vescovo di Trento di imbastire un processo che approdi a una laute satisfazione, a una condanna esemplare. Quindi cosa succede? Cosa vediamo? Che per, come dire, per esercitare la sua volontà repressiva la censura di stato ricorre a quelle che erano le tradizionali istituzioni censorie ecclesiastiche, il tribunale ecclesiastico per l'appunto. Bene, a un mese dalla relazione di Migazzi il processo viene aperto. Siamo al 15 gennaio del 68, inizia l'escussione dei testimoni, 16 persone, amici e conoscenti di Pilati che vengono chiamati nelle sale del Castello del Buon Consiglio a deporre. Pilati in questo momento non si trova a Trento, è a Coira, ma non perché sia fuggito come si dice e si ripete spesso, in realtà a Coira beneficia di un generoso, generoso stipendio per scrivere e pubblicare, una situazione ideale per per Pilati. In ogni caso da Trento gli amici lo informano, lo aggiornano di quanto sta accadendo e anche sulle chiacchiere temibili e disonorevoli che lo indicano come onoretico, pericolosissimo per lui. Da Bassano addirittura il frate franciscano Giangrisostum Tovazzi, erudito, riferisce che si raccontava, cito, con orrore che in Trento si era scoperto un eretico, l'eretico era Pilati. Ora, un radicato luogo comune storiografico attribuisce la responsabilità del processo al principe vescovo di Trento, allora Cristoforo Sizio. No, ma l'abbiamo detto, in realtà il processo è formalmente sì gestito da Sizio e non riesce a fare altrimenti, ma imposto da Vienna. Anche su questo punto gli archivi di Innsbruck, la documentazione raccolta ad Innsbruck non lascia dubbi. Il processo in effetti è interessante anche perché, come dicevo, manifesta, segnala importanti risvolti sul piano politico istituzionale e lascia intravedere una concorrenza tra la giurisdizione ecclesiastica, tra la sovranità del principe vescovo di Trento e la giurisdizione secolare, no, che l'autorità tirolese imperiale intende imporre. Anche per quanto attiene alle facoltà censore. Ecco, tra l'altro non è la prima volta che Vienna e Sizio, che Vienna e il principe vescovo di Trento si trovano contrapposti in punto di in punto di prerogative, ma anche il principe vescovo Bressanone si trova nella stessa difficile situazione. Ecco, allora dobbiamo ammettere, così è, nel processo a Pilati il principe vescovo Sizio svolge un ruolo del tutto subordinato, subisce le decisioni prese oltre altre, decisioni prese altrove. Quindi ogni fase del processo è condotta sotto il controllo e sulla base delle istruzioni provenienti da INSPU e da Vienna, fino alla sentenza. Vienna chiede, sollecita il bando perpetuo contro Pilati dal territorio del principato vescovile, espulsione a vita. Non solo chiede il sequestro dei beni. Pilati di beni non ne aveva molti, ma insomma quei pochi. Ecco, e quindi cosa si voleva colpire? Non solo il libro appunto, ma anche la persona dell'autore e della sua famiglia e il suo onore, tra l'altro, oltre che i patrimoni. Peraltro presunto autore, perché la prova approvata mancava. E Pilati dal canto suo cade dalle nuvole a Coira e si arrabbia pure, dice, si aspettava la censura ecclesiastica, ma non quella di Stato. Sottovaluta, non è aggiornato, diciamo così. Quindi i risicati spazi di azione che Sizzo può occupare vengono usati a beneficio di Pilati. Anche qui si è detto, ma come un vescovo che protegge Pilati? Beh, sì, perché no? Ci sono dinamiche clientelari, familiari, sociali, tanti aspetti, tanti fattori che giocano un ruolo, no? In questa come in altre vicende. Ecco, l'Azizzo cerca in effetti di proteggere lo scrittore media in suo favore, manda lettere, scrive lettere ad Innsbruck, sottolineando che a carico di Pilati non c'erano prove, solo ipotesi e congiutture. Come a dire, non c'erano elementi per condannare Pilati. Dietro a Sizzo ci sono anche gli amici, ci sono anche i protettori naturalmente, no? Ed è attraverso gli amici che Sizzo fa sapere a Pilati che il processo è stato istruito, cito, per cagione delle premure fattegli dalla corte di Vienna. Quindi si scusa, si giustifica. E ancora, si scusa di avere le mani legate. Sizzo conosceva la riforma d'Italia, sì, certo la conosceva, l'ha vista circolare sotto i suoi occhi, ma non sembra esserne troppo scandalizzato. A chi gli chiede se davvero ritenga Pilati innocente, Sizzo risponde con un sorriso eloquente. La conosceva. La familiarità è tale che Pilati da Coira invia una lettera arrabbiata, arrogante, vorrei dire, difendendo il proprio ruolo di scrittore. È il dicembre del 68, la possiamo leggere insieme. Condividiamo lo schermo. eccolo qua. Non c'era motivo, scrive Pilati a Sizzo, di spedirmi l'inquisizione e però molto meno di infamarmi con un'indegna citazione. Dove si è mai praticato nei nostri umani tempi di molestare giudizialmente una persona sospetta di aver pubblicato un reo libro? Quando non si vede nel frontespizio il nome di quella? Beh, è proprio questo uno dei problemi, che il libro era uscito anonimo. Vivono in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Napoli, in Milano ed in altri luoghi dentro e fuori dell'Italia, tranquilli e senza nessuna molestia, gli autori di libri che furono abbruciati. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Vivono pacificamente ed onorati gli autori di operette sommamente abominati dalla corte di Roma e dai religiosi. Vivono in Francia stimati gli autori di opere ardite e non hanno sofferto, non hanno subito molestia alcuna e neanche perduto le loro cariche. Viviva in mezzo a tutti gli agi mondani il bestemmiatore di Dio e della religione, tollerato unicamente perché non mette in fronte il suo nome a libri detestabili. Ora, il bestemmiatore di Dio, le cui opere Pilati ha letto, è il barone Dolbach, un intellettuale raffinato, un filosofo, ma ateo, e Pilati, come tantissimi all'epoca, condanna l'ateismo. Pilati però non dice che Dolbach, quando è in pubblico, si protegge camuffando la propria posizione. Un conto è esprimerla al chiuso dei salotti dell'élite e un conto è metterla per iscritto con un nome. Quindi qui Pilati finge di non sapere. E appunto grazie a Zizzo, dicevo, alla sua mediazione e anche alle resistenze che noi cogliamo in questo carteggio, se Pilati evita il bando perpetuo. Viene quindi condannato al bando, però per un, dal territorio vescovile, ma per un, una durata rimessa all'arbitrio del, del vescovo. Nel giro di un anno e poco più il bando cade, comunque Pilati eh si sta muovendo in giro per l'Europa, quindi insomma l'impatto non è poi così drastico, no? Quanto alla paternità della riforma d'Italia, come dicevo, il giudizio restava in, eh inibito da un dubbio inespugnabile. Fino ad oggi possiamo dire. A questo punto si impone un'altra domanda, un altro quesito. Perché Vienna censurò un libro come la riforma d'Italia? Due fattori, secondo me, hanno giocato un ruolo decisivo. Il primo, una sfortunata coincidenza eh temporale, perché eh mentre eh mentre Pilati inizia, mentre esce il libro e inizia a a a far circolare eh l'opera eh esce anche nell'aprile del sessantasette eh un decreto viennese risolutivo in materia eh censoria con cui si ribadiva la necessità di una serie di misure peraltro già eh adottate, rogo dei libri sospetti, punizione severa non solo per l'autore ma anche per chi ne fosse stato trovato in possesso, confische e perquisizioni sia nel contesto sia per il clero sia per i laici. Uno degli obiettivi primari era sradicare, cito, i dannosissimi e velenosi vestigi dell'ateismo e dell'indifferentismo. Andava punito con durezza esemplare chi si rendeva colpevole, cito, di vilipendio di religione. Un secondo fattore che nuoce forse ancora di più alla riforma d'Italia riguarda eh le modalità della comunicazione, lo stile con cui Pilati sostanzialmente eh scrive, modalità che peraltro Pilati trascura ehm come dire regole del gioco che Pilati trascura volutamente perché Maria Teresa poteva sì apprezzare i richiami dell'opera, la centralità della della del principe, la secolarizzazione nei rapporti tra Stato e Chiese eccetera eccetera ma non la radicalità dei toni usati da Pilati, toni spesso aggressivi, violenti, irriverenti. Almeno per l'epoca però insomma anche a un lettore odierno certe pagine risultano risultano piuttosto violente. Ecco quello che Vienna invece è disposto a a concedere agli scrittori eh agli intellettuali era cito una discreta libertà di ragionare no? Quindi nel rispetto di un codice della comunicazione che prevedeva e riconosceva limiti ben precisi, limiti eh definiti. Quindi quindi la 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 condanna dell'opera di Pilati, la condanna teresiana dell'opera di Pilati va connessa a questo gioco serissimo delle parti no? Per cui allo scrittore si richiedono prudenza il che vuol dire anche autocensura, controllo no? Nello stesso tempo Cesare eh deve concedere cito una dignitosa e onesta libertà di stampa e di espressione. Ecco un gioco delle parti. Pilati cosa fa? Viola questo bon ton, queste regole non scritte della comunicazione politica sottovalutando poi in particolare forse perché non non era aggiornato, non lo so, sottovalutando la o la severità dei codici asburgici in una congiuntura politica peraltro piuttosto eh delicato. ecco è un gioco delle parti dicevo che non è necessariamente subito dagli scrittori come spesso si è ritenuto. No, invece è per lo più approvato dagli intellettuali europei. Non ci sono ormai abbiamo testimonianze, gli studi che ci confermano questo atteggiamento. Non si ama la censura ma la si ritiene uno strumento inevitabile, uno quando non addirittura eh indispensabile. Tra l'altro Pilati stesso invoca la censura, la censura secolare, non quella ecclesiastica naturalmente, in vari passi della riforma d'Italia. Passi in cui la censura di Stato diventa parte integrante del programma di riforma, di rinnovamento che Pilati propone. Quindi in discussione anche per Pilati non è tanto la censura, no? Ma il problema sono i modi e i presupposti ideologici della della censura eh ecclesiastica. Ecco questa appunto è una posizione non condivisa da buona parte, dalla maggioranza eh degli intellettuali e scrittori europei eh all'epoca. Ecco allora hm possiamo leggere insieme ehm come Pilati invoca eh invoca il ricorso alla alla censura in un capitolo peraltro eh importante perché è il capitolo dodicesimo in cui sintetizza un po' diciamo i capisaldi della riforma che che propone. eccolo qua siamo appunto al 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 dodicesimo capitolo i libri ancora possono fare del bene e del male assai ci dice eh Pilati quindi devi sì essere attenti che i cattivi e stolti siano banditi dallo Stato. È quello che fa la censura asburgica con la riforma d'Italia attraverso i suoi capitani ed insomma no? Tra l'altro i libri cattivi per Pilati sono prima di tutto le vite dei Santi, le ageografie ricche di 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 invinzioni no? Di elementi inventati ma pensa anche ai ai canonisti più in generale eh libri che ehm che mettono in discussione il ruolo del principe e dello Stato insomma tutti questi fanatici creduli, goffi, storditi, disgraziati seminatori di inezie, di falsità, di pregiudizi e superstizioni vengano o cacciati nel fuoco, sta parlando quindi del ruogo dei libri, o nel prossimo mare e nei più vicini fiumi affogati. All'incontro cerchisi a tutto potere di introdurre i buoni libri e di farli passare nelle mani di molti e se possibile è delle donne, dei mercatanti e degli artigiani ancora. A chi affidare questo compito? Pilati pensa a censori colti, molto colti, ma anche spregiudicati e soprattutto leali esecutori della volontà del principe. Sentiamo ancora cosa ci dice Pilati. A questo fine vuolsi creare dei censori i quali siano di finissimo gusto e liberi da ogni pregiudizio. A questi avrassi da dare l'incombenza di vegliare perché i cattivi libri che sono nello Stato ne vengano mandati fuori e quei che non vi sono ancora non vi possano venire introdotti giammai. Pilati alla fin fine è vittima di un sistema a cui fa riferimento, che appoggia. Essi avranno pure da rivedere ogni manoscritto, in questo caso quindi richiama l'attenzione anche sulla censura preventiva. Allora rivedere ogni manoscritto prima che nello Stato possa venire stampato e non potranno a nio libro che sia cattivo dare la permissione di poter uscire a pubblica a pubblica luce. Allora interrompo di nuovo la condivisione, poi torneremo per l'ultima slide. Ecco torniamo a questo punto a un'esperienza iterata di Pilati con gli apparati censori. Pilati lascia a un certo punto nel 69 Coira e coltiva nuove ambizioni in lacuna a Venezia dove lo troviamo verso la fine novembre del 69 e dove si muove ricorrendo a uno pseudonimo perché è attivo il bando tridentino. Vale la pena ricordare questo momento se non altro perché in qualche modo è legato al pranzo di Natale che Pilati consuma con i Mozart padre e figlio. Allora a Venezia Pilati si muove sempre più disinvolto, entra in certi circuiti riformatori del giovane patriziato veneziano, gode e della stima di Caterina Dolfin che gli assicura sostegni importanti. Nelle librerie veneziane si vendono senza nasconderli i libri di Pilati anche se sono censurati ma la presenza di Pilati non passa inosservata. Gli informatori prendono nota dei suoi movimenti, spiano i colloqui che si tengono lungo lungo le cali, osservano il consenso e l'interesse che lo circondano, riconoscono presto non solo la sua identità ma l'identità, la paternità di tutte le sue opere riforma di taglia compresa. A questo punto, nel giro di pochissimi giorni, gli inquisitori di Stato, censura di Stato quindi, giudicano sgradita la presenza di Pilati a Venezia, meglio nel contesto della Repubblica. Pilati viene definito reo maestro, cito, troppo celebre autore di vari libri empi e sovversivi. A questo punto Pilati viene condannato al bando perpetuo e questa volta è perpetuo davvero dai territori della Serenissima, viene arrestato nella notte nella sua stanza, condotto in barca sul Po ai confini sorvegliato da sei sbirri armati. È il 21 dicembre 69, a carico di Pilati adesso ci sono due bandi, situazione pericolosissima, situazione drammatica. Cosa fa? L'unica cosa che può fare Pilati è cercare di raggiungere Rovereto naturalmente illegalmente perché a Rovereto c'è il cugino che in qualche modo deve aiutarlo. Il cugino in effetti vice capitano lo ospita, lo nasconde e quindi viola le norme Cesare perché insomma dal momento in cui accetta il cugino in fuga. È ormai Natale, peraltro vice capitano Cristani è impegnato con due ospiti speciali, Leopold Mozart che era stato un suo antico maestro di violino durante gli studi a Salisburgo e il figlio, 13enne, Wolfgang Amadeus. Di queste giornate abbiamo una preziosa, testimonianza nelle celeberrime lettere di Leopold che riferisce non solo del banchetto in casa del vice capitano ma anche dei commensali. È tutto un rievocare gli anni trascorsi a Salisburgo, ricordi di infanzia in un contesto, in una situazione allegra, molto piacevole. Ora però cosa succede? Nella lettera di Leopold Mozart si racconta che abbiamo trovato il Ponte VII, Lodron, il consigliere consistoriale Cristani, il zio di Pilati, un certo Pilati eccetera eccetera. Allora è strano, è strano insomma, dobbiamo capire questo indefinito riferimento a Pilati, questo veloce cenno alla presenza di Ein Gewiss Pilati, no? Di questo, di un certo Pilati. Pilati sappiamo da tante fonti che è persona brillante, peraltro ha studiato anche lui con Cristani a Salisburgo, sa perfettamente il tedesco. Perché Mozart lo ricorda così a malapena? Allora io immagino la situazione, immagino che nessuno abbia inteso informare in Mozart della reale identità di uno scrittore due volte bandito, no? E che quindi Pilati sia stato il commensale, il meno loquace, l'ospite taciturno, forse anche distratto, ma che insomma abbia preferito o gli sia stato imposto dal cugino, di mantenere un profilo basso. E naturalmente Pilati non assisterà al concerto tenuto dal giovane prodigio nel palazzo del dei dei baroni todeschi, anche se li conosceva, e men che meno va in chiesa, no? La chiesa di San Marco si assiste all'esibizione di Wolfgang Amadeus all'organo. Ecco, infine, Pilati, con l'aiuto degli amici, rientra verso Trento, sempre illegalmente ovviamente, nascosto nel buio della notte in una carrozza. Perché? Perché ha ottenuto da Zizzo, quindi dal principe vescovo di Trento, rassicurazioni che non sarebbe stato arrestato. Zizzo, quindi, ancora una volta si presta di nuovo a fingere di non vedere, di non sapere, impegna la propria parola, mostrandosi distante dalla logica e dalla mentalità invadente, per così dire, e punitiva della burocrazia imperiale, che viene percepito come un potere anonimo, distante. E, d'altra parte, Zizzo aveva evidenziato una certa perplessità rispetto alla conduzione del processo contro Pilati. E vengo allora alla conclusione. Possiamo osservare come il processo contro 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 Pilati e le censure che lo inseguono, no? Si collocano nel contesto di una censura ecclesiastica declinante, per così dire, una censura di Stato, invece, emergente, capace di elaborare tecniche di controllo censorio sempre più raffinate, sviluppate nell'ambito delle strategie politiche ehm statali. È però questa, tutto sommato, anche una storia di libri che circolano nonostante i divieti. È una storia di complicità più o meno inaspettate, no? Di dinamiche sociali e eh clientelari, clientelari in cui i rapporti personali, gli amici, i protettori, Zizzo, eccetera, riescono, almeno in alcuni casi, a sovrapporsi e a imporsi alla volontà di controllo delle istituzioni. Grazie. Grazie a te, alla professoressa Luzzi, che per questa relazione, che è molto stimolante, come ogni conferenza o seminario che parte dal lavoro personale, dello studioso e quindi riesce a rendere con la massima concretezza le cose, le cose che appunto importano capire, conoscere, insomma. Mi chiedevo, ci sono tanti, la situazione è molto complicata perché da una parte Pilati sostiene una tesi, diciamo una tesi conciliarista per combattere la supremazia del Papa, mette in discussione, mi sembra di ricordare, la tesi dell'infallibilità del Papa e quindi mette in discussione la legittimità dell'esistenza di uno Stato della Chiesa, che non può essere né monarchico né democratico né aristocratico, perché questo non avrebbe senso e quindi in qualche modo potrebbe essere un alleato di, diciamo, della Corte Asburgica, quindi in qualche modo per fronteggiare questo, ecco, questi, però non ha molto peso, diciamo, nella censura che si vuole, diciamo, con cui si vuole colpire lo stesso Pilati. L'altra domanda che ti volevo porre riguarda la possibile influenza di Rousseau. Rousseau, il contratto sociale del 1862, sappiamo delle traversie che è stato bruciato più volte a Parigi, a Ginevra, il contratto sociale e Rousseau stesso è stato perseguitato, poi alla fine se l'è cavata, ma è stato veramente sofferto moltissimo. Ma il concetto di religione civile che tiene il contratto sociale è qualche cosa che forse non è del tutto, diciamo, incompatibile con la visione che Pilati ha della religione, considerando che lui condanna la superstizione, ma condanna anche l'ateismo, come altrettanto deleterio. E lo stesso Rousseau è veramente convinto che non si possa assolutamente accettare un ateo nella compagine, diciamo, di uno Stato, di qualunque Stato. Quindi, in qualche modo, ecco, mi chiedevo se cita, perché tu hai detto tra l'altro la volta scorsa che le riforme d'Italia è compilatorio, cioè contiene molte citazioni, e mi chiedevo se cita anche Rousseau, tra quei, tra, c'è anche Rousseau tra gli autori che lui, di cui lui, che lui utilizza. È ben vero che non, che è difficile risalire agli autori, come tu hai ricordato, però magari c'è qualche indizio, non so, ecco. Provo a risponderti? Prego, prego, grazie, scusami. Provo a rispondere, Claudio. No, per quanto riguarda la decisione di Vienna, al di là effettivamente dei vari punti di contatto, però la proposta di Pilati viene, a parte anche non volendo considerare lo stile, Pilati davvero però insiste in maniera eccessiva su alcuni passaggi. Per l'epoca la sua può risultare una proposta molto forte, anche perché è una proposta affidata a un testo pubblicato, non sono proposte che si considerano nel chiuso appunto dei salotti o della corte lungo i corridoi del potere. No, Pilati lo urla nelle piazze, questo non si fa. Kaunitz, per dire, insiste con i suoi ufficiali, i suoi referenti, sullo stile, sommesso, fare e tacere. Pilati invece urla, veramente, sceglie uno stile urlato e questa è una tattica sbagliata. Per quanto riguarda rapporti con la Chiesa, certamente già Maria Teresa insomma, mira a recuperare spazi giuridizionali ampi e quindi non è solo il figlio, non è solo Giuseppe che porta avanti una certa politica, è stato già dimostrato. Non so se Elisabeth Gams, che mi onora della sua presenza mi sente, ma insomma lei per esempio ha dimostrato che c'è una forte continuità. Però, ecco, Pilati insiste sul fatto di togliere la temporalità al Papa in maniera radicale. Insiste anche, c'è un capitolo sulla tolleranza, molto bello, peraltro secondo me non condiviso da Pilati, ma qualcuno l'ha scritto e comunque risulta nel libro ed è una tolleranza troppo estesa. Non che Maria Teresa non pensasse alla tolleranza perché in realtà è da anni che lei stessa ragionava su una politica religiosa più ampia. Kaunitz poi ha maggior ragione perché nella penisola insomma davvero non c'è molto spazio per il pluralismo, anzi non c'è proprio. E questo comporta dei riflessi anche nell'economia e questo non piace ovviamente a Vienna, ma da appunto da un'apertura controllata della tolleranza a una tolleranza estesa all'Islam, all'ebraismo, dice Pilati, a tutte le religioni purché monoteiste insomma era un po' difficile poterlo accettare. Soprattutto perché Pilati lo afferma in un libro appunto che circola nero su bianco. Insomma non sono considerazioni come altri invece fanno, ripeto, nel chiuso di un... quindi c'erano dal punto di vista viennese penso che questi siano stati poi i fattori i fattori i fattori prevalenti. Certo, se Migazzi, se l'Arcivescovo di Vienna può essere l'Arcivescovo di Vienna abbia anche... si sia imposto ecco però insomma forse non serviva scomodare l'Arcivescovo, anche se sono vari appunto effettivamente i punti di contatto. Probabilmente fosse stato più prudente nella... con una sana autocensura per Vienna nella stesura forse non sarebbe stato... non sarebbe stato bloccato. Per quanto riguarda Rousseau, per quanto ho potuto verificare, non c'è nessuna influenza diretta. sì, Pilati qualcosa deve aver letto, anzi sicuramente conosceva Rousseau, ma più in generale poi per quanto riguarda l'ateismo devo dire che buona parte degli intellettuali, cioè Rousseau non rappresenta un caso speciale, insomma. Quasi tutti, per non dire tutti, sono sono davvero rari gli istruttori, gli intellettuali pensatori che sostengono l'ateismo, ma se non altro per una questione puramente politica, perché la religione, come dire, è funzionale alla stabilità di uno stato. Quindi si può essere atei senza dirlo, ma non si può consentire un un ateismo diffuso, perché va a scapito della, appunto, della stabilità di uno stato, insomma, di una collettività. Quindi di solito, spesso è un ragionamento di tipo politico che porta a negare l'ateismo non religioso. Certo. Ecco. Sì, sì, d'accordo. Grazie delle lucidazioni. Ecco, vorrei adesso sollecitare tra i presenti quelli che hanno… ecco, Antonio Di Secli, ad esempio, ecco, si congratula nella chat e dice, ho perso qualche brano della comunicazione a causa dell'instabilità di internet relazione perfetta circa le modalità giustificative del Pilati contenute nella lettera presentata da Luzzi, nutro il dubbio che Pilati finga. D'altra parte è uno stile quello di negare come Pilati, da una parte, e aderire dall'altra alle tesi e atteggiamenti del potere, uno stile tipico di intellettuali libertini e del pensiero ereticale. Ecco. Se il… se Antonio, il professor Di Secli vuole esprimere di persona la sua domanda… io purtroppo non lo vedo sullo schermo, ma… Professore, buonasera. Beh, io, come dire, i miei studi, i miei studi dedicati a Pilati hanno preso avvio sulla base degli studi del professor Di Secli, quindi li devo… Buonasera. …li devo molto. Lui sa che Pilati è un bugiardo patentato, ma a parte quello, secondo me, è deista. È deista, non altro, però… Come Voltaire. Sì. E lo so, per lo so modo… Ecco… Eh, non si sente bene. La sentiamo? Non… c'è un collegamento… Ah, mi sente? Eh, ma la connessione va e viene. Sì, infatti… No, quella lettera che è interessantissima mi dà… mi fa pensare, come in altre situazioni, che Pilati… da una parte di dire ma fa bene il potere quelli che scrive, ma in realtà il pensiero è tutt'altro, è l'opposto. C'è sempre stato questo atteggiamento. E a me sembra che Pilati continua a… …a… …arlo, insomma, come strumento di… È andata via la voce, perché io vi vedo bloccati. Eh, purtroppo non ti abbiamo… non è… non si ricepisce il tuo intervento. Eh… Mi piace. Comunque, se vuoi riprovare, ripetere le cose che hai appena detto? No. Allora stavo dicendo, ma credo… credo che Luzzi l'abbia già detto molti anni fa, che quando Pilati dice, come nel caso di questa lettera, è giusto bruciare i libri, buttarli nel fiume, nel mare, eccetera, eccetera, i libri che propagano, che spargano menzogne e roba del genere, in realtà è una forma di finzione. Si sente? No. Sì, sì. Ecco, d'accordo. Va bene, Serena, se vuoi rispondere. Eh… Beh, in questo caso io penso che Pilati… no, sia… sia convinto della necessità di… 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 fare ricorso alla censura, perché peraltro ci sono altre pagine in cui è ancora più inquietante quando invoca dei censori che… che devono controllare la popolazione, eh… come dire, muoversi nel contesto… in un dato contesto… spiare, ascoltare, raccogliere le informazioni, eccetera, eccetera… e poi fare un processo pubblico e lui prevede le colonne dell'infamia. E secondo me, come dire, ormai ho una familiarità con il buon Pilati, secondo me quando parla di colonne dell'infamia sta parlando davvero di colonne dell'infamia, delle colonne dell'infamia. Le invoca. Sì, sì, anche… Forse in maniera superficiale, senza pensare realmente a cosa sono… Però lui le invoca e sono funzionali alla… di nuovo alla stabilità dello stato che lui ha in mente. Quindi la censura rispetto alle colonne dell'infamia è anche forse la… come dire… la modalità più… più… più tradizionale. Ripeto, buona parte degli intellettuali europei credono… credono… ritengono necessaria la… la… la censura, insomma. Certo. E pensiamo ai tweet oggi, forse… non voglio invocarla, però qualche dubbio ogni tanto… intanto… ogni tanto viene, ecco. Figuriamoci nel settecento. Quindi allora dobbiamo ritenere che, se ho capito bene, Pilati… Grazie. Diciamo… Grazie a lei. Doveva combattere la superstizione in modo radicale, combattere i mali del secolo, e quindi naturalmente anche le armi che erano state… venivano utilizzate contro di lui, come la brutale censura poliziesca, eccetera, andavano benissimo. Insomma, si trattava di applicare gli stessi metodi per perseguire, diciamo, la pulizia… la pulizia dello Stato, ripulendolo da… da persone e da soggetti che la inquinavano. Letteralmente si può dire questo. Sì, è giustissimo, secondo me è così, sì. Sì. Posso chiedere una cosa? Prego, prego. Dottoressa Cazzoni. Saluti, professoressa Luzzi, veramente… Saluti tantissimi. …bravissimissima. Grazie. Io volevo sapere, questo personaggio così contraddittorio per tanti versi, alla fine che fine ha fatto? Ha scritto altro quando è tornato da questa sua avventura, diciamo, con la protezione del Vescovo? Ha raddrizzato il tiro o efficacemente ha continuato a sostenere la censura da una parte tranne che la sua dall'altra. Vorrei sapere qualcos'altro, cioè che fine ha fatto e se ha scritto altro sempre senza fare tesoro di questa situazione in cui si è trovato, forse anche un po' per colpa sua. Grazie. No, Pilati ha continuato coerente sulla sua strada, ha pubblicato varie opere anche in francese, è un personaggio, insomma, famoso. La riforma d'Italia, peraltro, verrà poi tradotta da lì a poco anche in tedesco, non solo in francese. Questo per dire che conservava una sua attualità a rapporti con i Paesi Bassi, ha rapporti con la Germania, insomma, una figura cosmopolita, ma anche con questo carattere anche molto irruente, diciamo, insomma, anche impulsivo. Ecco, ma appunto resta in un circuito, diciamo, internazionale, anche se poi non con grandi, per varie ragioni, non con grandi fortune. Lui poi non ha patrimonio su cui può basarsi, questo non lo aiuta. Vivere di sola scrittura è molto difficile all'epoca, però resta un personaggio. Sì, sì, continua a pubblicare opere che poi, ripeto, hanno un successo editoriale e di pubblico fino agli anni, fino agli anni, fino agli anni Ottanta. Dopodiché, per dire, è interessante il personaggio perché è anche bugiardo, nel senso che pur di costruire, dare un'immagine di sé, dà informazioni anche volutamente erronee false agli amici. Per esempio, questo prima dell'esperienza con la riforma d'Italia, ma è un episodio che ci dice molto del carattere, anche della curiosità intellettuale. Insomma, Pilatti voleva conoscere il mondo protestante. Per insegnare o avvicinare il mondo protestante si doveva essere protestante. Lui era cattolico, non poteva lasciare il mondo cattolico perché avrebbe rotto con la famiglia. cioè non era nemmeno pensabile. Cosa fa? Prende contatto con una serie di, per via lettera, con una serie di personaggi potenziali, i suoi protettori, dichiarandosi perseguitato, cosa che era falsa, in quel momento non era perseguitato, e dichiarandosi pronto alla conversione. Bene, in questa maniera arriva Genste, Bassa Sassonia, gli si consente di insegnare come privato zen, no come docente privato, quindi non incardinato, ma insomma… Poi resterà molto deluso dall'università tedesca, ce lo dirà anche, e se ne va senza dire una parola. Lì scopre tutto un mondo di un'editoria inglese che in Italia non c'era, tutta una serie di autori che a lui erano sconosciuti e che diventano molto importanti anche nella sua visione filosofica, e poi se ne va, e torna in Italia e dice agli amici Bassetti, ma insomma la Germania, sono veramente indietro a questi del mondo protestante per quanto riguarda il mondo accademico, ma dalla Suman, da lettere false, ovviamente non si è mai convertito, e anche lì dice, ma perché non si converte, cosa aspetta? Perché non era quello, avrebbe perso tutti i rapporti in Italia, non poteva rientrare, che si fosse convertito, ma fa anche questo. Ora, c'è tutto il carteggio, non è che, come dire, non è una mia ipotesi, tutto il carteggio in un archivio privato, conservato in un, insomma, disperso, non ricordo neanche come sono riuscita, come sia riuscita a imbattermi in quell'archivio, e ci sono queste lettere che sorprendono, perché veramente… Poi si fa passare per barone, non è barone, è solo parte della nobiltà, Anaone, Nonesa, Vescovile, altro che barone. Insomma, ripeto, Pilati è anche questo, e non è l'unica sua bugia. Dopodiché è anche l'autore di un libro, di un'opera molto importante, che sono i Voyage, che parlano anche della sua visione dell'Europa, della sua esperienza di viaggiatore, per l'appunto. Questa opera addirittura fu pubblicata anche in olandese, che vuol dire proprio investire in un'opera che si ritiene di successo. No, è interessante, sia dal punto di vista della… di scrittore, dell'intellettuale, sia dal punto di vista della sua personalità. Tratti è un po' bischero l'uomo, devo dire. Poi morirà, morirà Tassullo, rientra anziano e in una lettera scrive c'è qualcosa del… come è bella la Valle di Nonno, territori così belli non ce ne sono in giro per l'Europa, solo la Valle di Nonno. C'è quindi questo conflitto, no? Amore e odio con la patria. Ma dice anche brutte cose che non posso neanche menzionare qui, perché è volgarissima, nei confronti della Valle di Nonno. Non so se ho qualche dato, però posso… Veramente persone interessanti. Sì. Bene. Prego Nadia. Posso? Sì. Allora, Serena, a parte la gioia di averti rivista dopo tanti anni, devo dire che ho apprezzato moltissimo la tua relazione, ritrovando la chiarezza di esposizione che avevi usquea puerizia quasi al liceo e mi è piaciuta molto anche la pacatezza con cui hai esposto la tua relazione. Io non mi addentrerò nell'argomento perché sono ignorantissima. devo dire che abito a due passi, ho via Pilati di fronte a me e quindi adesso ogni volta che passerò di lì ricorderò ciò che ci hai raccontato. ma dirò invece così con molta semplicità che mentre parlavi mi sono venute così in mente alcune cose e ho pensato proprio a Pilati come a un personaggio da social. Allora, non si ama la censura, ma la si ritiene inevitabile, talvolta necessaria. Allora, fino a che punto sarebbe rispettosa della libertà? e non ho potuto non pensare a quello che sta succedendo sui nostri social. Il mio cervello ragiona attualizzando. L'altra cosa, parlava di libri buoni, libri cattivi, eccetera, eccetera. Ovviamente ci deve essere chi sceglie, chi fa la selezione, chi decide tra il buono e il cattivo. i fanatici, creduli, goffi, storditi. Insomma, ci sono persone alle quali ci si rivolge che non sono in grado, secondo lui, come anche noi riteniamo oggi, che non sono in grado di valutare. Tant'è che hanno successo molti libri che non hanno valore. Diciamo, tanti best seller, così, che sono, diciamo, dei successi costruiti a tavolino spesso, quindi qualcosa che ha a che fare con la necessità di, insomma, di costruire, ecco, dei successi commerciali. Allora, chi, il vecchio, il vecchio adagio latino, chi controllerà i controllori, chi controllerà gli ispettori, chi controllerà i censori? Cioè, sono venute fuori in questa tua relazione che riguarda il Settecento, che riguarda questo personaggio così molto, molto originale, molto strano, geniale, ma anche un po' bischero, no? L'hai definito un po' farabutto. Ecco, come dire, io ci ho trovato davvero tanti, tanti punti di contatto con il nostro tempo, con il nostro tempo. Mi è venuto addirittura da pensare, chi autorizza i 5 stelle, visto che, insomma, in questi giorni, no? Si è fatto il governo, eccetera. Chi autorizza, diciamo, i 5 stelle ad espellere dal loro gruppo, 15, 30 persone, non so bene. Che modi di fare sono questi? Io non ho simpatia per i 5 stelle, ma, insomma, diciamo che il modo di agire è abbastanza, è abbastanza, insomma, discutibile, no? Ecco, tu hai parlato di Carlo Antonio Pilati, io ho pensato a tutte queste cose, non mi devi rispondere, eh, soltanto ti volevo dire tutte le suggestioni che mi sono venute, così dalla tua, così dalla tua relazione, come a dire Neil Novi, no? Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, insomma, no? Queste situazioni ci sono state nei tempi antichi, ci sono state durante, diciamo, l'illuminismo e ci sono oggi, insomma, sono dei problemi che non sono di facile soluzione. Ho pensato anche a Eugenio Borgna, quando dice le parole possono essere ironi o possono essere pietre. Ecco, questa comparazione, quando lui diceva, ci sono i libri buoni e i libri cattivi, ma chi decide quali sono buoni e quali cattivi? Ecco, tutto qua. No, grazie, sono complimenti. Complimenti, davvero. Grazie, detto della mia professoressa Vale, sono questioni, sono i principi che qui si impongono, no? Parli della libertà. Pilati, no, non dà questo, non si pone questo tipo di domanda, no? Il censore deve essere, l'abbiamo letto, deve essere colto, molto ben preparato, deve essere spregiudicato, quindi libero da pregiudizi di qualsiasi natura, deve essere funzionale alle politiche del principe, no? E basta. E così risolviamo il problema. In questa maniera, con questo profilo, noi riusciamo a selezionare i libri buoni da quelli cattivi. Questo ci dice Pilati, non c'è nessuna riflessione di libertà, no, ma tutti i libri che non sono funzionali, ho capito, non è così semplice. Infatti qui, come anche altrove, Pilati è un po' troppo, diciamo, superficiale, non lo so, insomma, troppo, perché appunto non è l'unico passo che richiederebbe una riflessione adeguata. Non parliamo poi delle colonne dell'infamia, contro i giudici anche, eh, tra l'altro, non solo contro, contro l'attualità, l'attualità. Perché lui nasce come giurista, no? Nella, nella formazione, quindi dice una bella colonna dell'infamia o un processo dopo la morte. Vediamo come, come, eh, come, come si è comportato in vidita questo giudice, questo avvocato. Insomma, cose pesanti. Però non ci, non si pone questa domanda, noi non la troviamo, è molto sicuro in questo, però certo, fino a che punto la censura? Forse però non lo dice, forse dopo la riforma d'Italia qualcosa forse impara, ma non sono così sicura. Grazie, Serena. Grazie a lei. D'altra parte, il Settecento è un secolo di pensatori radicali. Lo stesso Rousseau ammette la pena di morte nel contratto sociale, perché, facendo con un ragionamento che adesso non sto a ripetere, ma quindi c'è una sorta di radicalismo che è quasi con genere al Settecento Illuministi. Sappiamo come la rivoluzione francese è terminata, quindi con un bagno di sangue, insomma, in transigenza dei vari Robespierre, eccetera, eccetera, e company. Quindi, dal momento che la rivoluzione francese è stata, diciamo, l'espressione di questo radicalismo ideologico, appunto, il seme va trovato, e certamente, e quindi non mi stupisco di vedere in Pilati, appunto, questa energica presa di posizione che denota un'intransigenza e una scarsa adesione al principio della libertà di pensiero, di espressione di parola, quello che già Spinoza aveva difeso nel Trattato Teologico-Politico nel 1670, un secolo prima ancora. Quindi, è difficile chiamarli anche illuministi. Chi è? Chi è l'illuminista? Il tollerante? Tu dicevi giustamente che l'altra volta che il Pilati difende, diciamo, la tolleranza anche in considerazione del fatto che tutti gli stati hanno bisogno di manodopera esterna, quindi di grande attualità a questo tema, quindi non si può, ovviamente, l'intollerante dovrebbe precludere, chiudere le porte allo straniero, di cui pure ha bisogno nei lavori, nelle attività. Quindi, ci sono diversi aspetti, diversi punti sui quali si potrebbe ragionare. Certamente si tratta di questioni difficili, ogni epoca storica ha i suoi limiti e quindi è impossibile, come dire, imporre una logica alle vicende umane senza considerare tutti i fattori compresenti. I rapporti geopolitici di allora non potevano, dettavano delle condizioni precise. Quindi un certo protestantesimo che è presente in Pilati lo rendeva in viso naturalmente al cattolicesimo romano, ma non era sufficiente per farlo apprezzare ai protestanti. Quindi la sua difficoltà potrebbe, ecco, questo te lo chiedo, potrebbe essere ricondotta a questo suo rimanere in bilico, in qualche modo, sui due versanti, quello cattolico e quello protestante, con questa polemica feroce, appunto, contro l'eccessivo numero di persone, di uomini col saio, insomma, che sono improduttivi, oziosi e pieni di superstizione, quindi con toni piuttosto forti. Ecco, sì, poi ci sono anche altre cose. Provo a rispondere. Nel frattempo voglio anche dire che la prima ad aver capito quanto bugiato potesse essere appilati a Elisabeth Kams, tra le tanti aspetti del personaggio, ma questo, come dire, me l'ha suggerito, anche questo me l'ha suggerito. Allora, protestanti contro i frati, eccetera, la sovrappopolazione demografica, la sovrappopolazione degli ordini regolari era un problema ovunque, ovunque, perché erano veramente numeri, insomma, numeri preoccupanti, preoccuperebbero anche oggi. Quindi tutti i paesi cattolici, addirittura già il Papa, non ricordo quale, a metà seicento, si era posto il problema di limitare, di chiudere almeno i conventi più piccoli, con dodici membri che non avessero un minimo di patrimonio per sopravvivere. Quindi non è che si debba essere protestanti nel sostenere posizioni come queste, perché, ripeto, era un problema economico, demografico, morale, politico, eccetera, e tutti lo sentivano. A Trento i frati erano chiamati Mangia Pagnotte, Mangia Pagnotte, scritto nelle lettere, insomma, ecco, la dice già tutto. Poi c'è un problema anche morale, ovviamente. Pilati non è protestante, non è filo protestante. Pilati conosce qualche protestante e lo usa in maniera funzionale al suo programma. Cioè, come dire, toglie la dimensione confessionale, mette insieme cattolici e protestanti e calvinisti insieme, per lui questo non è e non deve essere un problema. Comunque ci sono autori, addirittura teologi protestanti, come Böhmer, che la Corte di Vienna adotta nelle sue università. Quindi anche su questo discorso, insomma, bisognerebbe superare questa idea del libro, ripeto, un teologo protestante, Böhmer, che viene adottato nell'università viennesi. Ovviamente perché è funzionale, ha una certa visione, ha una certa politica. Che protestante, Pilati non sia protestante, non sia filo protestante, sono, come dire, certa, perché non era una dimensione che a lui interessava. È deista, questo sì. È deista. Anche su alcuni, anche il conciliarismo è cattivissimo nei confronti della curia romana. Febrogno, Febrogno parla di, cosa dice, di una rivolta contro il Papa, perché il Papa è un usurpatore, è un usurpatore perché ha un potere temporale che non gli spetta. Per dire, insomma, cos'è protestante Febrogno? No, è un conciliarista, è vescovo, dubito che. Insomma, è tutto molto, bisogna sì, ma appunto. È una lunga storia che risale almeno al concilio del 1415, naturalmente in cui abbiamo, persino deve salare una situazione con il grande scisma, con i tre papi, quindi che è dovuto appunto a questa divisione interna al clero, l'alto clero della chiesa dell'epoca, dovuto appunto alla contestazione della pretesa del Papa di avere l'ultima parola e quindi di poter condurre la chiesa in modo monarchico, insomma, già la crisi di questo, certo. È una lunga storia, appunto, per cui la categoria protestante o non protestante, se non si va a vedere tutta questa dimensione più ampia, è fuorviante. Certo. Vedo la professoressa Garms, vedo, e possiamo invitarla a intervenire, visto che tu l'hai citata prima più volte. Ah, deve attivare forse il microfono. Deve attivare l'audio, sa? Sì. Eccolo. Adesso sentiamo. Buonasera. Buonasera a tutti. Mi volevo congratulare con Serena, dal punto di vista austriaco, per tutto quello che ha detto e tutto quello che sa, e spero scriverà sul funzionamento della censura statale, perché è un capitolo studiato da Greta e Klingenstein in maniera magistrale negli anni Sessanta, però la censura, la riforma della censura statale nel periodo teresiano, però da lì non sono andati molto avanti gli studi, per un semplice fatto che tutta la documentazione, o quasi tutta la documentazione relativa, è bruciata nel rogo del Ministero della Giustizia, nei moti politici del 1927. C'è molto difficile, solo in piccole parti si sono conservate le discussioni all'interno della commissione di censura, che ovviamente sarebbero interessantissime di seguire, di sapere chi ha votato, che cosa, eccetera. Tuttavia quello che mi ha molto colpito è l'itinerario che tu hai disegnato col passare attraverso le autorità regionali, perché credo che questo è un punto che finora non è stato preso in considerazione dalla ricerca storica austriaca. Questo passaggio è l'importanza che le autorità regionali, nel tuo caso tirolesi, possano avere nei vari processi di denuncia, di trasferimento di una causa da un tribunale all'altro, da un magistrato all'altro. Questo credo che sia molto importante. Tuttavia, lo sapevo, ma l'avevo dimenticato, anche questo legame tra i fratelli Migazzi. Consideriamo che l'arcivescovo Migazzi, al momento già cardinale, aveva subito, come è stato dimostrato molto bene, per esempio da Peter Hirsch, studioso svizzero, era stato un progressista, diciamo, era stato nominato nella censura statale, perché a Maria Teresa in un primo passo importava togliere la censura dalle mani dei gesuiti e creare una censura in cui la Chiesa avesse un suo ruolo, perché era presieduta dall'arcivescovo, è un momento anche episcopalista, se vogliamo, ma di dire molto precisamente la censura delle opere teologiche va bene, e questi possono continuare i teologi, il clero. Per tutto il resto è censura statale. Tuttavia, anche chi, in quanto teologo, poteva dare un suo parere sulle opere di carattere teologico, stava all'interno della commissione di censura statale. Perciò abbiamo qui un involucro molto interessante che comincia a, come dire, a cambiare il peso della singola voce del censore da ecclesiastico a laico. E questo credo che abbia giocato anche molto nel caso di Pilati e anche il fatto che Migazzi all'epoca era già passato, come dire, nel campo nemico, nel campo dei conservatori, chiamiamoli quelli che Pilati avrebbe considerato nemici. e grazie comunque, è stato molto, molto stimolante. Grazie. Grazie a te. Grazie. Proverò, scusa, proverò magari a scrivere un saggio, però poi me lo dovrai leggere, come sempre. Bene, allora, se non ci sono, ci sono altri quesiti tra i presenti. e noi consideriamo conclusa questa conversazione e lezione della professoressa Luzzi e la ringraziamo. Io ringrazio, oltre alla professoressa Luzzi, anche gli intervenuti, i presenti. E arrivederci allora al prossimo appuntamento. Buona serata, arrivederci. Grazie e buona serata. E arrivederci. Arrivederci.